che hanno saputo usare, che hanno saputo rischiare, che hanno saputo scommettere nei propri territori e che hanno saputo costruire una propria dimensione lavorativa, una propria dimensione di realizzazione personale nei propri territori e comunità di riferimento. Abbiamo quindi scoperto una generazione di, noi molto spesso li abbiamo definiti pionieri, quindi di ragazzi che hanno saputo scoprire e riscoprire i valori identitari nelle proprie origini, che hanno saputo riscoprire il valore straordinario del settore che noi oggi rappresentiamo, che hanno saputo anche riscoprire in realtà la grande vocazione dei giovani italiani che non sono solo quelli che hanno la volontà e la tentazione di espadriare, ma che sono in realtà i giovani che hanno a cuore il futuro delle proprie comunità, hanno a cuore il futuro dei propri territori, che in questi territori restano per investire e per creare anche economia e occupazione. Perché Oscar Green racconta questo, racconta di una generazione che ha saputo creare aziende, che ha saputo investire non solo risorse ma soprattutto idee e progetti, racconta una generazione che ha saputo creare valore, un valore economico ma anche e soprattutto un valore sociale, perché per ogni azienda agricola che nasce non solo nasce una nuova economia, un'economia di prossimità, ma nasce un nuovo legame sociale, un nuovo legame di relazioni che si instaurano.